La presente video-lezione vuole essere un'introduzione allo studio del linguaggio a cavallo tra XVIII e XIX secolo, attraverso un'analisi del pensiero di tre studiosi tedeschi, Johann Georg Hammann, Johann Gottfried Heder e Wilhelm von Humboldt. La prima parte è una breve introduzione alla riflessione sul linguaggio nel corso dei secoli, mentre la seconda è dedicata alle teorie dei tre pensatori tedeschi. Il linguaggio, per la centralità che riveste nella vita dell'uomo, è stato ed è oggetto di riflessione di diverse discipline, dalla linguistica alla filosofia, dalla letteratura alla psicologia, un interesse che si perde nella storia dell'umanità. L'uomo si è infatti sempre concepito come un essere che pensa e parla perché pensa. Nel corso dei secoli, molteplici sono stati tentativi di definire il linguaggio, inteso nella sua forma verbale, come espressione tipica della ragione umana, ma anche del sentimento, quindi distinguendolo dal linguaggio degli animali. Il linguaggio è la capacità, comune a tutti gli esseri umani, di sviluppare un sistema di comunicazione che ha caratteristiche proprie che lo distinguono da altre forme di comunicazione. Le singole lingue sono quindi forme specifiche di questo sistema. Le tre definizioni forse più comuni di linguaggio sono quelle di facoltà mentale, mezzo di comunicazione e fenomeno socioculturale. Il linguaggio può essere verbale e non verbale, naturale e artificiale. Nella sua forma verbale sembra aver determinato il salto evolutivo fra l'uomo e gli altri animali, tanto da diventare una condizione imprescindibile della cultura. Se è vero che anche gli animali comunicano, il loro linguaggio sembra tuttavia dipendere dai bisogni primari, come ad esempio la fame, e da contenuti predeterminati, mentre l'uomo riesce a comunicare ai propri simili, attraverso i segni linguistici, anche le proprie emozioni e la propria esperienza del mondo. L'uso del linguaggio porta alla creazione di uno spazio umano, di un mondo culturale e simbolico tra i parlanti. Se durante l'epoca antica e il medioevo l'interesse per il linguaggio è concentrato sulla comunicazione sociale politica, cioè sulla retorica, sul valore metafisico e sulla logica, vale a dire sul rapporto tra linguaggio e realtà, linguaggio e ragionamento, nell'epoca moderna la riflessione sul linguaggio è accompagnata dall'affermazione graduale della scienza. Quest'ultima esige un proprio linguaggio che deve essere rigoroso e in grado di fornire un'adeguata conoscenza della nuova concezione del mondo. Tra il XVII e il XVIII secolo studiosi come Galileo, Newton e Linneo ritengono che sia il linguaggio comune che quello parlato dai dotti siano inadeguati a esprimere i contenuti di una nuova visione scientifica del mondo. Altri studiosi, come Comenio e Cartesio, progettano la costruzione di una lingua artificiale, perfetta e universale. Filosofi come Francis Bacon denunciano invece i fraintendimenti causati da un uso improprio del linguaggio. Tutte queste riflessioni portano ad un ripensamento delle esistenti teorie sul linguaggio e all'avvio di un'analisi dello stesso non solo come mezzo di comunicazione ma anche di spiegazione e interpretazione del mondo. Proprio in questo periodo nasce in Europa un fevvido dibattito che culminerà negli ultimi anni del XVIII e la prima metà del XIX secolo in una discussione sulla definizione e l'origine del linguaggio. Se in Inghilterra Thomas Hobbes considera il linguaggio la più nobile invenzione degli esseri umani e ne sostiene il carattere convenzionale, John Locke e David Hume riflettono sul rapporto tra linguaggio e idee, in Italia Gian Battista Vico descrive il linguaggio come creazione ed espressione spontanea della natura. In Germania il dibattito diviene ancora più animato grazie ad un gruppo di studiosi formatosi all'Accademia Reale delle Scienze e delle Lettere di Berlino. In questa istituzione, fondata nel 1700 dal filosofo Leibniz, riportata in vita per volere del sovrano Federico II di Prussia che ne affida l'organizzazione al filosofo francese Moubert Thuy, alcuni pensatori tentano di trovare nuove risposte e soluzioni alle antiche questioni sul linguaggio, grazie anche all'aiuto di una nuova scienza, l'antropologia. In questo periodo iniziano le prime analisi di linguistica storica e comparata, dalle quali prende forma l'idea che la lingua possa essere considerata un archivio dell'esperienza storica di un popolo e ne influenzi la vita spirituale e intellettuale. Lo studio del linguaggio è inoltre inserito all'interno della riflessione su problematiche attuali che riguardano la politica, la cultura, ma anche questioni economiche e religiose. Le questioni cruciali di questo dibattito riguardano la ricerca di un'origine comune e mitologica del linguaggio, la consapevolezza della dimensione storica ed eterogenea delle lingue e il dibattito sulla natura acquisita o innata del linguaggio, ossia se il linguaggio ha un'origine divina, come sostengono ad esempio Haman e Fichte, oppure un carattere umano e storico, come credono ad esempio Jakob Grimm, Hader e Willem von Humboldt. E' propriamente con i contributi di pensatori come Hader, Haman e Humboldt che inizia la moderna filosofia del linguaggio. Il vero e proprio dibattito prende avvio nel 1769 con il concorso indetto dall'Accademia berlinese sulla questione dell'origine del linguaggio. Il concorso pone la questione sulle condizioni per il darsi del linguaggio. Hader, teologo, filosofo e letterato, propone un saggio, il saggio sull'origine del linguaggio, in cui sostiene che il linguaggio è il tratto distintivo della natura umana, quindi non può arrivare da qualcosa di altro e superiore come Dio e neppure da qualcosa di inferiore come l'istinto. Hader inserisce lo studio del linguaggio all'interno del suo interesse principale, cioè lo studio dell'umanità nella sua complessità. Il linguaggio, in quanto contemporaneamente fenomeno biologico e culturale, ha per Hader un'origine umana, esso accompagna l'uomo nella sua evoluzione. La domanda di Hader sull'origine del linguaggio, che è fortemente influenzata dalla questione della filosofia kantiana sulla possibilità della conoscenza e dell'esperienza, è prima di tutto una questione di comprensione del senso del mondo. Hader rivolge le sue critiche allo schematismo della filosofia kantiana, cioè alla soluzione proposta da Kant per superare la distanza tra la particolarità del fenomeno e la strattezza del concetto. Il linguaggio è per Hader segno dell'uno nel tutto. La natura, la parola, la percezione superano le distinzioni, unificano la conoscenza ed esperienze umane. L'evoluzione dell'uomo è il distacco da uno stato primitivo in cui egli è simile agli animali, avviene per mezzo della capacità razionale di creare un linguaggio in grado di descrivere e comprendere il mondo. L'origine del linguaggio per Hader non è quindi soprannaturale ma naturale e la distinzione tra linguaggio degli animali e linguaggio degli uomini non è una questione di superiorità dell'essere umano rispetto all'animale, quanto piuttosto una differenza di tipo qualitativo dell'uso che viene fatto del linguaggio. Per Hader, l'uomo è un essere libero e pensante, le cui forze si sviluppano progressivamente e assieme a queste anche il linguaggio. Nella sua determinazione l'uomo è una creatura terrestre, è un prodotto della società e il linguaggio è il prodotto dell'uomo nella sua completezza, quindi anche uno specchio della sua evoluzione in seguito a trasformazioni di varia natura, che siano di tipo anatomico-morfologico, funzionale, climatico, ambientale e così via. Il linguaggio è per Hader il prodotto di un rapporto dell'uomo con il contesto in cui vive, ma anche il mezzo con cui si forma l'umanità, quindi il tratto distintivo della natura umana, una caratteristica essenziale dell'uomo. Nelle singole lingue si mostra l'originalità di ogni popolo e della sua cultura. La caratteristica principale della facoltà del linguaggio, come organo della ragione umana, è quella di rispondere alle diverse necessità dell'uomo nel suo lungo cammino di differenziazione rispetto agli altri esseri viventi. La sua umanità si fonda infatti sul linguaggio e cresce con esso. Linguaggio e pensiero sono da considerare in un unico processo. Il linguaggio interno, cioè il pensiero, e quello esterno, cioè le lingue, si completano a vicenda e costituiscono così un tutto, un sistema. Attraverso il linguaggio e i segni linguistici si esprime il pensiero. Per perdere il linguaggio è lo strumento più importante di espressione del pensiero e a dimostrazione di ciò ci sono le lingue nazionali, che sono un esempio concreto dello stretto rapporto tra una lingua e uno specifico modo di pensare. Assieme alla letteratura, una lingua particolare rappresenta il carattere di una nazione. Heather afferma che ogni nazione parla nel modo in cui pensa e pensa nel modo in cui parla. La riflessione e il linguaggio nascono per Heather nello stesso momento in cui l'uomo osserva il mondo che lo circonda. La parola non serve solo per nominare una cosa e distinguerla in questo modo dalle altre, ma è anche un tenere presente il tutto della lingua e del pensiero specificando la parte nominata. Per Heather, infatti, l'uomo ha inventato il linguaggio non appena la riflessione ha operato liberamente. Come strumento di unificazione del molteplice della sensazione, il linguaggio non fa che esprimere nello spirito umano una tendenza presente e operante nella stessa natura. Heather afferma che questo mezzo di esternare il pensiero determina sì lo spirito al discorso, ma lo limita e lo incatena in molti modi. Egli è quindi consapevole dell'ambivalenza della sua tesi dell'unione di pensiero linguaggio, che da un lato mostra il ruolo decisivo di una lingua nel darsi del pensiero, ma pone anche questioni sulla capacità di pensare senza ombre, pregiudizi, con indipendenza e fuori dagli schemi. Lo scritto di Heather lo pone in contrasto con il filosofo e teologo Johann Georg Haman. Haman inserisce la sua idea di linguaggio all'interno della critica contro la fiducia assoluta dell'illuminismo nei confronti della ragione. Sostenitore della corrente filosofica letteraria dello Sturm und Drang e influenzato dalle opere di David Hume sui limiti dell'intelletto umano, in particolare dal trattato sulla natura umana, Haman pensa che solo la fede in Dio possa aiutare a comprendere le problematiche filosofiche. Al centro del suo pensiero si trova l'interpretazione della Bibbia da cui deriva il carattere simbolico che egli attribuisce alla natura e alla storia. In questo contesto egli ritiene che il linguaggio abbia un'origine divina e sia la manifestazione di Dio che si rivela. Nel 1684 Haman scrive l'opera Metacritica del purismo della ragione per contrastare la tesi esposta da Kant nella critica della ragione pura. Egli critica la distinzione che Kant fa tra sensibilità e intelletto. La considera inutile perché ritiene che il linguaggio, in quanto categoria a priori, ha già al suo interno la capacità astrattiva legata al significare delle parole e ai concetti di spazio e tempo. Inoltre, i suoni e le lettere sono già forme a priori passate nella lingua attraverso il disegno e la musica, vale a dire, le più antiche pratiche di comunicazione. Tali forme incorporano l'originaria esperienza di spazio e tempo. Pertanto, il linguaggio basta da solo a spiegare sia la nostra esperienza sensibile che la rielaborazione intellettuale che ne facciamo. Non è il pensiero a determinare il linguaggio, ma il linguaggio ad avere in sé le forme pure del nostro pensare. Un altro approccio allo studio del linguaggio è quello di Wilhelm von Humboldt. Humboldt, politico, diplomatico, filosofo e linguista, studia il linguaggio come un fenomeno tipicamente antropologico, ossia umano, e paragona la sua teoria del linguaggio all'antropologia comparata. A Humboldt non interessa determinare l'origine del linguaggio, quanto piuttosto di definirlo nella sua struttura interna e nelle sue manifestazioni empiriche, cioè le lingue esistenti e parlate. Per Humboldt le lingue parlate sono una produzione spirituale, frutto di un'energia creativa e di un processo infinito. Egli si chiede, come si sviluppa la forza spirituale che genera sia la lingua che il pensiero? Sostiene che in questo processo abbiano un ruolo fondamentale i popoli, che sono gli autentici soggetti del parlare, tanto da affermare che le lingue sono espressioni di soggettività parlate. In uno scritto del 1806, Latium und Hellas, Humboldt sostiene che clima, geografia, politica, costumi e lingua determinano una nazione, anche se la lingua lo fa in modo prevalente essendo l'anima di una nazione e quindi inseparabile nel suo sviluppo. Per Humboldt, quindi, il linguaggio non è un prodotto, ma un'attività creatrice dell'essere umano. Non è uno strumento del pensiero, ma un dispositivo che lo media lo aiuta a formarsi e lo condiziona nel suo sviluppo. Causa unica del linguaggio, del pensiero, delle azioni umane è lo spirito. Il linguaggio è pertanto condizione della possibilità dell'esperienza. Se le lingue sono delle produzioni spirituali, frutto di un'energia creativa e di un processo infinito, il linguaggio è la mediazione tra natura e spirito, sfera sensibile e intellettuale, infinità dello spirito, finitezza dei suoni e delle esperienze. Posto quindi che sia lo spirito a creare le lingue. Perché esistono lingue diverse? Humboldt ritiene che la diversità delle lingue sia un segno evidente dell'impossibilità di trovare una causa comune all'origine del linguaggio. Egli infatti non contrappone tra loro le diverse lingue, non considera una lingua superiore ad un'altra, ma le vede tutte come un'espressione di un'esigenza spirituale e unitaria. Di conseguenza, le singole lingue esistenti, come i singoli individui, sono punti di vista parziali dello sviluppo umano. Come la materia, del pensare e l'infinità delle sue combinazioni, anche il linguaggio è in grado di fare un uso infinito di mezzi finiti. La lingua diventa quindi la condizione necessaria dello sviluppo spirituale di una nazione, essendo la manifestazione concreta dello spirito di un popolo. Ogni lingua porta con sé una strutturazione dell'esperienza del vissuto, della realtà, che si traduce in una visione del mondo, in una Weltanschau. Ogni lingua rappresenta un punto di vista nella visione del mondo, contiene la trama di concetti e forme di rappresentazione della realtà. Parlare una lingua, usarla come veicolo di comunicazione, abitarla come lingua madre, significa pensare in quella lingua. Come per Herber, anche per Humboldt il linguaggio forma il pensiero, ma allo stesso tempo lo condiziona. In questa determinatezza del pensiero, Humboldt non vede però una limitazione, ma una risorsa perché mostra i diversi aspetti di una lingua. Quest'ultima è sì il prodotto di una libera attività del soggetto umano. È storicamente determinata, appartiene all'individuo che si esprime attraverso di essa e al popolo che la parla, ma è anche il prodotto dello spirito, oggetto reale di studio, visione del mondo e limite del pensiero. Per queste idee, Humboldt viene considerato un precursor della contemporanea filosofia del linguaggio, perché ha insegnato a vedere in ogni lingua una visione del mondo. Egli ci ha trasmesso un'idea del linguaggio come forma di pensiero, non solo come analisi astratta degli schemi grammaticali o logici, bensì anche sul piano di una storia viva delle idee che si fanno parole e discorso. Giunti alla fine di questa lezione, vorrei lasciarvi con un paio di domande per continuare a riflettere. Potremmo avere un pensiero senza un linguaggio che lo esprime e un linguaggio senza un pensiero da esprimere. E se ogni lingua porta con sé una visione del mondo, popoli con linguaggi differenti dal nostro hanno visioni diverse del mondo?